con la mano alla gola vuole aggiustare tutto e si aggiusta la cravatta c'è questo finale ironico sì, è inutile, non facciamo niente ma è un'ironia pura mentre in questo film quello che dici è come se chiudesse qualcosa che veramente non si può più aggiustare mentre allora forse si poteva ma per scelta non veniva aggiustato sì ah, questo è un poeta ma per scelta non veniva aggiustato me l'avevo detto che non ero un grande poeta io ovviamente non ho potuto tradurre la poesia in inglese perché sarebbe stato impossibile quindi ci risalire prima alla provo a leggerla io anche se non so l'italiano l'uomo ci dice non so perché sono qui finisce dopo molti anni o dopo qualcosa come la giovanessa o l'amore con la mano alla gola vuole aggiustare tutto e sia giusta la cravatta grazie 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 ho anche detto che non ero un grande attore vi ho anche detto che non ero un grande attore ma il messaggio c'è l'applicazione del pessimistico che non puoi fare molto sulle vita si passa e si passa a un territorio in un territorio non conosciuto abbiamo tutti questi pensieri, non? Sì, diciamo che il collegamento c'è, l'elemento fondante c'è perché è l'approccio sempre un po' pessimista di non poter rifare così tanto nella vita che è un pensiero che un po' ci accompagna tutti e si addentra poi in un percorso che è anche abbastanza sconosciuto a tutti noi nella nostra vita quindi sicuramente c'è il collegamento, è evidente bene, sì sì, l'elemento era l'elemento optimista in il film però c'era un elemento ottimista ed era il cane quindi probabilmente avete già capito che il cane è l'unico che sopravvive bene, io non so se ci sono ancora interventi o domande da parte del pubblico non fosse così, io ringrazierei tutti quanti voglio in qualche modo legittimare la presenza dei miei amici, colleghi qui perché ho concepito questo incontro come un vero e proprio tributo a un maestro che ha fatto la storia fa la storia del cinema contemporaneo quindi ho voluto che dei colleghi che hanno scritto di lui o degli amici anche come appunto Margherita gli facessero una sorta di abbraccio metaforico e quindi fossero qui presenti spero che la cosa sia riuscita, che sia stata gradita dal maestro Scolimoschi e quindi io vado a ringraziare Lorenzo Esposito Roberto Turigliatto Margherita Furdal veramente il maestro Jensi Scolimoschi grazie, grazie a tutti grazie 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 grazie